Lauren Jones è una ragazza studentessa di medicina con 25 anni di età addosso dell'università di Lancaster in Gran Bretagna, fino a piccola vedo a curare le persone. Però esiste una parte del corpo che le mette molta paura, si tratta dell'ombelico. È una sensazione irrazionale, lo so, ma è più forte di me. Non sopporto che qualcuno tocchi il mio stomaco alla testa dell'ombelico. Così avrebbe la ragazza, è come se mi toccassero nelle viscere. L'università ha compreso la sua enorme paura, ma Lauren ha ripeto che non può immaginare di superare il suo limite. Non riesco a controllare questa sensazione, non credo ci saranno esami in cui è previsto stare a contatto con l'ombelico. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto.